buonasera questa sera facciamo una minestra chiamata stracciatella useremo un uovo che andiamo a sbattere aggiungiamo un cucchiaio di pan grattato un altro cucchiaio di parmigiano reggiano una grattatina di noce moscata se piace ovviamente una un pochino di pepe e un po di prezzemolo che io mi metto via tritato già eccolo qua andiamo a sbattere tutto nel frattempo abbiamo preparato la quantità d'acqua un brodo vegetale e l'abbiamo messo a bollire ecco qua vedete risulta una pappetta abbastanza densa dopo di che prendiamo una letta piatti per andare bene a togliere il nostro impasto abbiamo sul fuoco il nostro brodo vegetale a cui andiamo mettere dentro il nostro impasto fatto con uova parmigiano pangrattato prezzemolo noce moscata e un po di pepe ecco qua il nostro impasto lo andiamo a rompere con la la frusta ecco bene così controllando bene che tutto sia rotto lo facciamo bollire un paio di minuti lo andiamo a rompere ancora un po ed ecco pronta la nostra minestra chiamata stracciatella eccola qua nel nostro piatto buon appetito grazie a tutti